Il giornale di Cefalù, videonotizie, radiocammarata web, Carlo Antonio Biondo. Buongiorno da Carlo Antonio Biondo. Al centro del giornale di Cefalù di oggi il problema dell'acqua, o meglio, delle bollette pazze dell'Avacu. Se ne è occupato il Consiglio Comunale della nostra città e ve lo racconteremo. Allora, il numero è il 1786, anno 41esimo. Ancora buongiorno dalla redazione del giornale di Cefalù, a cominciare da Adriano e Federico Cammarata, Giuliano Montagna, Rosalva Petarra, Guglielmo Biondo, Cristiana Biondo e Cosmo Scattaglia. Dunque, subito l'editoriale del giornale di Cefalù. Acqua e bollette Amat in Consiglio Comunale. È uno stato di cose inaccettabile. L'intervento del sindaco della nostra città, Daniele Tumineno. Nasce il giornale online Cefalù. Abbiamo intervistato il suo editore, Giuseppe Spinosa. Azione Cattolica. Primo incontro interparrocchiale degli adulti nel ricordo di Valeria Cortina. L'intervento di Marianna D'Amico. Secondo appuntamento della rassegna teatrale presso il Cigero. Con A Cirimonia. Abbiamo intervistato Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo. Chiesa di Santo Stefano. Consacrazione dell'altare. Gli interventi del Vescovo Monsignor Giuseppe Marciante e del Parroco Don Francesco Lobianco. Questi servizi principali, con le interviste e gli interventi che proponiamo in questo numero del giornale di Cefalù, insieme a questi servizi, tante altre notizie, ovviamente sempre accompagnate da tante immagini. Il giornale di Cefalù lo si cerca e lo si trova su tutti i social e per intero nel profilo Facebook di Adriano Cammarata e nel canale YouTube Carlo Antonio Biondo, al quale, iscrivendosi, si riceveranno tutte le notizie del giornale di Cefalù. Allora, come dicevamo, acqua e bollette AMAP in Consiglio Comunale. È uno stato di cose inaccettabile, dice il sindaco Daniele Tuminello. Tuminello in Consiglio rivela di avere fatto la fila allo sportello AMAP per aggiornare i propri dati personali. Ma AMAP non ne ha tenuto conto e ha inviato la bolletta standard con consumo forfettario, come se nulla fosse stato comunicato. Il sindaco ha dunque sottolineato lo stato di cose inaccettabile, ma ha anche evidenziato alcune risposte concrete che sono comunque arrivate da AMAP ai cittadini. Il racconto di questo Consiglio Comunale è stato sospeso un quarto d'ora dopo mezzanotte per mancanza del numero legale. È stato ripreso dopo un'ora, ma continuando a mancare il numero legale, è stato rinviato a questa sera, 14 marzo 2024. Ancora una volta si è rilevata l'assenza di AMAP invitata a essere parte, a essere presente in Consiglio Comunale. La situazione si è determinata dopo che la maggioranza ha dichiarato l'intenzione di votare un proprio documento, letto dalla Punzina, di sostegno all'operato del sindaco e non quello della minoranza di Innoviamo Cefalù, documento che era stato letto da Carmelo Greco. A questo punto i quattro consiglieri di Innoviamo Cefalù hanno lasciato un quarto d'ora dopo la mezzanotte l'aula ed è così mancato il numero legale, come naturalmente hanno rilevato il presidente calabrese affiancato dal dirigente, dal segretario comunale, la dottoressa Sergi. Noi vi proponiamo adesso naturalmente in sintesi l'intervento del sindaco Tuminello, quello di Carmelo Greco e Antoniella Marinaro e quello di Saro Lapunzina. Il Consiglio è durato oltre quattro ore e sono intervenuti proprio tutti i consiglieri presenti in aula, a cominciare dal presidente Francesco Calabrese, Paola Castiglia, Giuseppe Spinosa che a metà seduta è andato via, Angela Fatta, Gianluca Cesare, Sara Pizzillo, Enzo Terrasi, Pasquale Turdo, Rosaria Glorioso, Antonio Franco, naturalmente il sindaco come abbiamo detto Daniele Tuminello, i consiglieri Carmelo Greco e Antoniella Marinaro e il vice sindaco Rosario Lapunzina. Di questi quattro ultimi interventi, cioè Tuminello, Greco, Marinaro e Lapunzina, proponiamo adesso al giornale di Cefalù, come abbiamo anticipato, una breve sintesi. Per coloro che volessero seguire le oltre quattro ore del Consiglio trovano il link nel sito del comune di Cefalù. Ci fa piacere e condividiamo con voi che il vice sindaco Lapunzina nel suo intervento ci abbia menzionato facendo riferimento ad una intervista del nostro giornale di Cefalù. Ma ecco il servizio. Il giornale di Cefalù, videonotizie, radiocammarata web. Il tema delle autenze non allacciate in fognatura, legittimamente, legittimamente, è un tema che i cittadini soffriva e l'abbiamo posto e l'abbiamo risolto ottenendo dei risultati. Io penso che questa attività è un'attività che non va a favore del sindaco, degli assessori e delle consiglieri a cui questo sindaco può stare più o meno simpatico, ma sono misure che vanno incontro a tutti i cittadini, perché noi, come tutti i cittadini, siamo utenti nel servizio di imprimi integrato. Non è che al sindaco arrivano bollette diverse, al sindaco arrivano 342 euro, come a tutti. Eppure, io nel marzo del 2000 e 22, da cittadino Polico, mi sono pregato questo tempo, ho fatto, voglio dire, ho fatto la mia figa, mi sono seduto lì, ho aggiornato i miei dati, ho comunicato la lettura dal mio contatore, col tanto di fotografia, e mandato 540 euro, pur avendo fatto l'aggiornamento dei dati di tanto richieste, dal loro stesso comunicato, e l'ho scoperto pochi giorni fa, quando mi è stata regalita la fattura a casa. Questo è successo. È chiaro che è uno stato di cose inaccettabili, è sicuramente fastidioso, ma noi altri, più di quello che abbiamo cercato di fare, per ripetere questo problema, un attimino in grado già, e per mettere ad AMAP di fare il gestore, perché AMAP ha la potenzialità per gestire il servizio idrico integrato in questa città, sicuramente, gestisce tanti comuni, gestisce la città di Palermo, è una società complessa, noi siamo soci di AMAP, e dobbiamo mantenere il giusto profilo istituzionale, così che io non lo scopo questo. Io non ho mai attaccato personalmente il presidente e il direttore o altro, nella qualità dei luoghi che ho lavorato, ma mai scendi sul piano personale, non mi interessa e non è così che si fa lo pubblico. Non è questo il modo di interpretare il luogo, sicuramente. Quindi, rispetto ai temi che noi abbiamo posto, io penso che delle risposte concrete sono abilate ai cittadini. Mettiamo AMAP, collaborando, aggiornando i dati, faccio mie le sue parole, le parole che però AMAP, su richiesta di questi quattro scarsi amministratori, aveva fatto già proprio nel marzo del 2023, di invitare i cittadini ad andare ad aggiornare i dati. Purtroppo quegli aggiornamenti i nostri non sono mozzi a niente, sono il primo a testimoniali, ma un'attività di collaborazione noi l'abbiamo messa in campo e la continuiamo a mettere in campo, per aiutare la cittadinanza. Perché in questi giorni chi viene all'ulto del comune, stiamo dando anche questo supporto a canale. Chi non può andare a farsi la fila per aggiornare le persone più anziane, le persone più in difficoltà. Abbiamo dato, mandato all'ulto del comune di aiutare queste persone a trasmettere una noturistica, una semplice trasmissione attraverso una media. Per qualcuno può essere un problema, uno Stato. Noi lo stiamo facendo, in uno spirito di collaborazione. Ecco, io credo con i cittadini che non dovete dilungarmi ancora nello spiegare quello che successe e che tutti i cittadini hanno compreso. certamente, come dice il consigliere e dice pure questo sindaco, l'acqua si deve pagare. L'acqua si deve pagare. Nessuno non può dirgli, non pagate l'acqua. Poi ognuno sicuramente fa quello che vuole. Può contestare, può fare ricorso, ci mette l'avvocato, si fa discutere dalla questione come meglio crede se pensa di avere subito un torto. Ma noi non possiamo dire alla cittadinanza non pagate l'acqua. Non è un atteggiamento responsabile, non è un atteggiamento serio. Non lo possiamo dire, non lo diciamo. Consenso di responsabilità, però vogliamo giustizia rispetto al metodo che da ora in poi deve decisamente cambiare. l'acqua contraddice se stessa nell'operato che fosse messo in questo anno e mezzo. Purtroppo non è stata capace di assicurare quel servizio di lettura che avrebbe dovuto fare a partire già dal primo settembre del 2022, regalata ad ottobre, da Stena, regalata al novembre scorso, la stessa società che era stata incaricata di nuove letture. E poi, concludo subito, per esempio, concludo subito, ancora con un'ultima citazione. La non potabilità dell'acqua, diceva lui, non dipende, non dipende da una nota di amore, divenne dal riscontro che ha fatto una richiesta di questo sistema. Ma che ha quasi distribuendo ai cittadini circolati, le hanno metà le analisi, e l'acqua che distribuiscono a i parametri, i soldi, i prodotti, i prodotti, i prodotti, sono molto alti, perché l'acqua è quella che non viene potabilizzata. E non viene potabilizzata per il semplice fatto che il grado di potabilizzazione che lui è dotato a questa città non funziona, è di una sospetta. ANAP ha lui lui ha un contratto di locazione che ha, diciamo, stipulato il gestore dell'impianto dell'impianto di potabilizzazione per assicurare il suo aumentamento dell'acqua greggia. E in questo momento ANAP sta distribuendo l'acqua greggia, che solleva dalle ponte con l'incanto di potabilizzazione che è spento. Per questo motivo Marco non viene potabilizzato. Essendo distribuita da quadreggio, la quadreggia è quella che ha il sogno per quelli che non gli consentono di rientrare dentro le cave del potabilismo. Questo è il quadro della situazione per cui io ho dato il mio contributo. Ora tocca al Consiglio Comunale determinarsi nel dibattito che ci sarà. Io sono qui ad ascoltarlo fino all'ultimo, come sempre faccio. Grazie. Io non penso di aver veramente mancato di rispetto all'amministrazione con le spiega etnici. Io so benissimo di essere un consigliere di ignoranza e non ho la facoltà di poter decidere di entrare nelle decisioni di programmazione della testazione pubblica. Ma vorrei ricordare che sono altrettanto consigliere comunale e rappresentiamo un gruppo. Diamo tanto quello di ignoranza. E' una norma gebbica dei due contenitori. E' un numero piuttosto costito e rappresenta forse la maggioranza dei cittadini. Ora, detto questo aspetto, che sicuramente anche nel 2014, poi non è più un altro medaglietto, perché poi abbiamo perso. Quindi visto che abbiamo perso, abbiamo cercato di punterre il proprio che i cittadini ci hanno attribuito. Allora, l'attività di controllo, penso che l'abbiamo fatto. Abbiamo cercato di intrompere con i venti ci hanno e siamo stati imparchettati. Il problema sostanziale è che i cittadini stasera cosa raccontiamo? Perché la stessa nota di altro, su sollecito e delle comunicazioni che poi sono venute dal 2021 o come il 2021 e del 2021, che aveva aspettato poi dopo. Io penso che non possiamo garantire e accettare il criterio che per le utenze commerciali applicare il criterio dei 65 metri cubi, così che a tavola parla abbiamo subito e automatico provveduto a cancellare i 65 metri cubi. E proprio per questo, siccome mi piace parlare con tante alla mano, e con quello che i cittadini in questi lunghi mesi ci hanno sollecitato, ci sono diversi casi che potrebbero portare all'attenzione di Amap, perché anche Amap, se pensiamo che fosse il lavoro di difendere Amap, io attribuisco ogni ordine le sue responsabilità. Amap ha mandato le fatture anche a molti ricevuti, forse perché non avevano Amap, forse perché non avevano manca datena grafica. Ma scusatemi, il 5 novembre 2021, il 30 marzo 2022, quando abbiamo acquistato le azioni abbiamo aderito a diventare soci di Amap, tra le tante richieste, ci eravamo visto che dovessimo consegnare ad Amap, scusate, consegnare ad Amap una banca datena grafica. Ma cosa sarebbe costata da Ocetare, da Amap, da bagna datena grafica, relativamente alle utenze comunali, dei cittadini, Tari, Tasti, e noi oggi non trovarci in questi argomenti. C'è qualcosa che per lo meno, sicuramente la comunicazione per lo meno, perché se un soggetto che invece tutto tra il 2016 e il 2024 e loro lo hanno rimandato nuovamente, uno dei due sicuramente ha sbagliato. L'utente deve essere messo nelle condizioni di avere la garanzia di come comportarsi. È altrettanto vero. Ecco perché noi stasera ripariamo che tra noi il primo tavolo reale è quello del consumo effettuale, e che sottoparremo all'amministrazione un documento con la speranza che possa essere accolto da tutti, dove i cittadini di Cetolù, per qualsiasi tipologica più densa, siano garantiti a pagare il consumo realmente effettuato, non altri consumi che non siano previsti per non valire leggi e che non possono essere accettati così in maniera unilaterale perché qualcuno l'ha pensato. come regoliamo altrettanto fuori luogo, e crederebbero che sia altrettanto utile il dialogo tra lente e amato, anche per quanto attiene la possibilità che il cittadino deve quasi giustificarsi nei confronti del gestore, deve indicare se la propria modalità immobiliare o un magazzino o un C3, quindi un posto auto, e fornire la prossima visura catastale. Ricordo a me stesso che la visura catastale non ha nessun valore di titolo di pochietà. La visura catastale è un documento sicuramente per eventuali accertamenti che può essere utilizzato, ma non per comprovare né la proprietà né per l'auto di pochietà. Quindi sarebbe opportuno che i tuoi enti cominciassero a dialogare e magari fornire, e quindi sgravare in questo caso potenza, di quelle che sono i database necessari a chi che ha cominciato a farli fatturare nei confronti di ripresa. Quindi la proprietà di Amat è una vicenda dolorosa. Dolorosa perché sono d'accordo con chi ha detto che avrebbe dovuto mettere in atto, nel momento in cui ha preso la gestione del servizio, tutte quelle iniziative che lo avrebbero poi portato ad emettere degli atti legittimi. Vede Presidente, non è un problema di convenienza. Credo che pagare il 640 euro per tutti gli anni in cui nessuno ha pagato l'altra città, può anche essere conveniente, non è questo il principio. Non è il principio della convenienza, è il principio del criterio. Non va assolutamente bene, perché quando noi paghiamo queste bollette, che sono frutti di criteri legittimi, noi avvalgiamo questo modo di fare. Io personalmente non ho ancora ricevuto la bolletta di Amat, non ho ancora ricevuto, non potrebbero venire pagando, quindi non so che cosa farò, come dire il numero 11. Per quanto riguarda questa sera, consiglieri, io presumo che è stato detto già dagli altri consiglieri e io lo ribadisco. Il nostro non può essere quello di un voto di fiducia rispetto a quello che è l'operato che porta avanti il sindaco di questa città. Molto attento che si è messo in aspettativa totale dal suo lavoro, che si impegna e che si occupa della città tutti i giorni e che chiaramente è sul pezzo e va sicuramente a tutelare i cittadini. Noi rispingiamo. Quell'accusa a microfoni spenti, fatti da qualche consigliere presente, che non mi vale nemmeno nominare, con tutti i cittadini presenti, quando si è detto che questo sindaco non tutela i cittadini. I sindaci tutelano i cittadini giorno e notte, perché si occupano della cosa pubblica, perché hanno a cuore della cosa pubblica, perché sanno che quella che è la loro missione è una missione ben precisa, che è quella di portare avanti l'interesse pubblico e l'interesse dei confronti dei cittadini. Ecco, questo è quello che fa un sindaco. Il professor Daniele Tumerello, lo dico io che l'ho fatto il sindaco e lo vedo operare, è il sindaco che tutti i giorni porta avanti il bene pubblico e l'interesse pubblico. E noi non accettiamo lezioni da nessuno, da chi che sia. E chi si vuole proiettare nel futuro, prima dovrebbe avere un po' più di modestia. Il documento è questo. Con riferimento all'argomento in trattazione, nella seduta odierna i sottoscritti di consiglieri comunali, a seguito del dibattito consigliare, danno pieno mandato al signor sindaco, professor Daniele Tuminello, di continuare l'interlocuzione in essere con Amap e S.P.A., affinché vengano risolte le criticità nella gestione del servizio idrico integrato da parte del gestore unico, a firma di tutti i consiglieri presenti al momento della lettura. Il giornale di Cefalù, videonotizie, radiocammarata web. Sempre il giornale di Cefalù, numero 1786, anno 41esimo, esclusivamente internet, a partire dal 14 marzo 2024. Il profilo Facebook Adriano Cammarata, il canale YouTube Carlo Antonio Biondo, al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati sulle notizie che riguardano il giornale di Cefalù. Allora, da questa settimana ha riaperto il centro comunale di raccolta di Contrada a Caldura. Ne dà notizia il vice sindaco, la Punzina, ricordando gli orari di apertura. Da lunedì a sabato, al mattino dalle 7.30 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Il centro comunale di raccolta della Caldura è aperto anche la domenica, dalle 8 alle 12. L'amministrazione comunale ricorda che la domenica e nei giorni festivi non viene svolto nessun servizio di raccolta porta a porta. Quindi è severamente vietato abbandonare i sacchetti con i rifiuti per le strade. Zona a traffico limitato, ZTL. Orari di accesso alla ZTL del centro storico per i titolari di pass rosso e rosso barrato. Questi restano in vigore fino al 31 marzo 2024. Si può transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL in questi orari. Il varco di accesso numero 1, il Corso Ruggero, insomma zona Piazza Garibaldi, consenso unico di circolazione tutti i giorni dalle 12 alle 18 e poi dalle 21 alle 9.30 del giorno successivo. Il varco di accesso numero 2 si intende quello di via Porta Giudecca, strada a doppio senso di circolazione tutti i giorni dalle 12 alle 9.30 del giorno successivo. Resta invadiato l'orario di accesso per i titolari di Pass Blu tutti i giorni attraverso il varco di Corso Ruggero e il barco di Porta Giudecca dalle 16 alle 17. Nasce in questi giorni nella nostra città un giornale online. Il suo nome è Cefa Blu. Il 21 verrà presentato ufficialmente. Noi abbiamo sentito al telefono, abbiamo intervistato l'editore di questo giornale online, Cefa Blu, per avere qualche anticipazione. L'editore è Giuseppe Spinosa. Ecco quello che ci ha detto. Il giornale di Cefa Blu. Videonotizie, radiocammarata web. Allora, buongiorno Giuseppe Spinosa per il giornale di Cefa Blu. Giuseppe Spinosa medico, Giuseppe Spinosa consigliere comunale, Giuseppe Spinosa esponente del Movimento 5 Stelle, una nuova veste, operatore naturalmente economico della nostra città, una nuova veste, editore di un giornale online, Cefa Blu. Quando le cose sono importanti il tempo si trova. Guarda che io un giornale l'avevo fondato nel 2006, non è la mia prima esperienza. Forse tu non ti ricordi. Non lo ricordo, mi dispiace. Di cosa si trattava? La Voce Web io l'avevo fondata. Ah, ecco la Voce Web. La Voce Web l'avevo fondata io. Ah, bene. Quindi insieme a Franco Nicastro, a Paola Castiglia? Allora, l'avevo fondata io, poi si sono aggiunti Franco Nicastro, a Paola Castiglia e tanti altri. Ah, ecco, va bene. Va bene. Adesso i ricordi si vanno riaffiorando. Ma comunque Cefa Blu, allora. Come mai questa iniziativa è in questo momento? Intanto perché secondo me, come giustamente dicevi tu prima, più informazione c'è meglio è. Secondo me un giornale online, puramente online, così come intendiamo, a Cefa Blu in questo momento non c'è. Praticamente di fatto siamo l'unico paese senza averne uno. L'unico paese delle Madonie senza averne uno realmente che si occupi. Poi ci sono dei blog, ci sono delle cose, però come informazione, come giornale, tutte cose, io credo che ce ne fosse bisogno. Un giornale che è fatto da una redazione, con dei giornalisti, con i criteri e i crismi di un vero giornale online. Ecco, intanto Giuseppe Spirosa, questa curiosità, il direttore Rosella del Castello, con la quale avevamo un appuntamento telefonico che credo sicuramente sarà rinviato di qualche giorno, insomma alla prossima settimana per il giornale di Cefa Blu, da Bergamo a Cefa Blu, perché Rosella del Castello è stata per tanti anni, oltre che corrispondente del Corriere della Sera, anche direttore di Bergamo News. Ecco, da Bergamo a Cefa Blu. Lei ama Cefa Blu, ama la Sicilia e in particolar modo Cefa Blu e dopo la pensione ha deciso di dividere la sua vita tra il sud e il nord, diciamo, tra Cefa Blu e Bergamo. E quindi lei trascorre una parte della sua esistenza a Cefa Blu. Ecco, quindi il collegamento è questo. E poi la scelta del nome. Voi dite Cefa Blu per un omaggio al blu del mare e del cielo, ma sicuramente c'è anche altro. No, non c'è altro, il blu ha tanti significati ovviamente, ma c'è soprattutto l'idea di una sua amica e collega che si è inventata questa cosa, ma a prescindere dal giornale, se l'era inventata prima per altre ragioni che non conosco e lei ha pensato di mutuare questa idea e di applicarla al nostro giornale. Ecco, Blu non ha niente a che fare oppure ha un collegamento con gli azzurri di Forza Italia o la nazionale di calcio italiana. Assolutamente nulla. Quindi non è un giornale di Forza Italia e non è un giornale sportivo di calcio. No, il blu è il blu del mare e del cielo. È molto presente a Cefa Blu ed è un po' quasi un'immagine di Cefa Blu, diciamo così. Ecco, io ho trovato in internet a proposito di Bergamo News e dell'impegno che per tanti anni ha svolto lì Rossella del Castello che la sua idea era di realizzare a Bergamo, sono cose scritte, una voce laica, libera, indipendente dai poteri cittadini. Sarà così anche Cefa blu? Esattamente sì. E' uno dei principali motivi per cui abbiamo deciso di fare insieme questa esperienza è proprio questo, perché deve essere un giornale libero, laico e indipendente. Giuseppe Spinosa, avrete una redazione fisica, un luogo fisico? Ecco, dove già funziona? Comincia a funzionare, la sta costruendo Rossella con la sua grande esperienza, sta lavorando a un gruppetto di giovani che hanno voglia di impegnarsi in questo settore e devo dire che stiamo avendo un bel riscontro nel territorio, già credo che sono 4-5 persone che stanno iniziando a collaborare, è chiaro che ancora siamo proprio in fase assolutamente iniziale, per cui è un po' prematuro, però ci sarà sicuramente una relazione con cui porteremo avanti i contenuti giornali. Ecco, ti chiedevo anche una sede fisica? Ma al momento ce n'è una provvisoria che è in via di Belgioioso, in questo momento è lì, non so se continuerà a restare lì oppure avremo bisogno di altri spazi, altre cose. Ecco, probabilmente questo andava chiesto a Rossella del Castello, ma lo chiedo all'editore Giuseppe Spinosa, lo sguardo di Cefa Blu si ferma a Cefa Blu o si allarga alle Madonie? No, come dice il sottotitolo, news da Cefa Blu è dalle Madonie, quindi ci occuperemo un po' di tutto il territorio. Quindi collaboratori anche dai comuni delle Madonie? Sì, noi siamo anche alla ricerca di gente che vuole dare un contributo di collaborazione di tutti i tipi, anche con altri giornali online che vogliono collaborare con noi, siamo disponibilissime. Ho capito, benissimo, dobbiamo dire che ci sarà una presentazione ufficiale, almeno per quello che si è detto, il 21 marzo al Teatro Cicero, è confermato? È confermato alle 18.30, ci tiene il direttore a questa cosa del 21 marzo perché è il giorno delle vittime della mafia. Sì, anche il primo giorno di primavera mi pare. O il primo giorno di primavera ovviamente. Va bene, va bene, d'accordo, intanto grazie per queste prime notizie, sicuramente quindi appuntamento il 21 marzo e poi con curiosità e anche insomma con tanta speranza che si aggiunga un'altra voce all'informazione nella nostra città e nel nostro comprensorio diamo il benvenuto a Cefa Blu. Grazie Giuseppe. È un'esperienza difficile e impegnativa ma ce la mettiamo tutto per farla andare avanti. Bene, tanti auguri, ciao. Grazie a presto, ciao. Grazie a presto, ciao. Il giornale di Cefa Blu, videonotizie, radiocammerata web. Vi segnaliamo un incontro che vuole portare chiarezza sulla fine del mercato tutelato dell'energia. A promuoverlo è la CGL insieme allo SPI, il sindacato dei pensionati della CGL, Feder Consumatori ed AUSER, l'Università della Terza Età. Queste associazioni organizzano presso la Camera del Lavoro venerdì 15 marzo alle 17 un incontro proprio per fornire tutti i chiarimenti possibili sulla fine del mercato tutelato dell'energia. Il titolo che le associazioni promotrici hanno dato a questo incontro è Fermati, non prendere una scossa. La sezione di Cefa Blu del Club Alpino Italiano organizza la traversata invernale. È prevista la partenza alle 7.50 del mattino in piazza stazione. Il luogo di incontro è la partenza con autobus riservato per piano battaglia e poi c'è l'inizio dell'escursione piano battaglia, piano pomo e Castelbuono. Le adesioni sono possibili fino al 15 marzo. La lunghezza del percorso, 14 chilometri, i responsabili di escursione ai quali si può fare riferimento, Cosè Gugliuzza e Benedetto Bonò. azione cattolica. Si è svolto il primo incontro interparrocchiale degli adulti nel ricordo di Valeria Cortina. L'incontro si è svolto presso la Sala Santa Chiara a Tigua, a parrocchia di San Francesco. Tante le testimonianze anche tratte dal libro che ricorda Valeria Cortina, libro che è arrivato anche a Papa Francesco e dal Vaticano è giunto il ringraziamento per questa pubblicazione, un ringraziamento che è stato letto a tutti i presenti dell'azione cattolica presso la Sala Santa Chiara da Marianna D'Amico insieme a Daniela Cortina. Ecco noi proprio per pochissimi istanti vi facciamo ascoltare le parole di Marianna D'Amico qui al giornale di Cefalù. Il giornale di Cefalù, videonotizie, radiocammarata web. E' una cosa di esemplare fortezza cristiana, specialmente per aver saputo cogliere nel sofferto passaggio della morte la presenza del Signore crocifisso e risorto con la certezza che Egli ha preparato per ognuno di noi un posto nella casa del Padre, in parte di cuore la benedizione apostolica, volentieri estendendo le familiari e l'auspicio che lo Spirito Santo conceda fortezza nella fede e feconda pace interiore. Vi saluto cordialmente con sensi di distinta stima. Monsignor Roberto Campisi, Assessore. Di questo vi siamo grati. Di questo vi siamo grati. Il giornale di Cefalù, videonotizie, radiocammarata web. Sempre il giornale di Cefalù, numero 1786, anno 41esimo. Ricordo che il giornale di Cefalù lo si trova esclusivamente in internet, i link sono proprio su tutti, assolutamente tutti, i social e l'archivio del giornale di Cefalù nel sito o cammarata web. Avviene in questi giorni la presentazione di alcuni libri che vogliamo segnalare, in particolar modo, tre libri. Iniziamo con la rassegna Weekend con il libro, che è iniziata lo scorso 2 marzo e prosegue con la presentazione di altri due libri, diversi fra di loro, ma fortemente legati alle radici culturali della nostra Sicilia. venerdì 15 marzo viene presentato il libro di Salvatore Sutera, Il posto degli ulivi, edizioni Leim e il giorno successivo, il 16 marzo alle 18, presso la Sala delle Capriate del nostro comune, il dizionario dialettale Rattalusciu di Maria Andreana a Sapienza. Entrambi, naturalmente, i volumi, con gli eventi di presentazione, godono del patrocinio del comune di Cefalù. Ma c'è un altro libro che vi vogliamo segnalare, ed è Rivoluzione sonora di Filippo Brancato, un libro disponibile su Amazon e Kindle, un lavoro letterario, il primo lavoro letterario di Filippo Brancato, un viaggio, una esplorazione dettagliata della musica rock, partendo dalle radici nei tumultuosi anni Sessanta, fino ai giorni nostri. Un viaggio, dice Filippo Brancato, ricco di storie, suoni e rivoluzioni culturali. Secondo appuntamento della rassegna teatrale che si svolge presso il Cicero con A Cirimonia. Abbiamo avuto l'opportunità di sentire al telefono e intervistare Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo. La scorsa settimana, al giornale di Cefalù, abbiamo avuto ospite la curatrice della rassegna Tiziana Giordano. Questa settimana, Palazzolo e Pandolfo. Palazzolo è autore del testo, regista e interprete, Pandolfo interprete di A Cirimonia. Lo spettacolo è in programma il 24 e 25 marzo, il 25 per le scolaresche. Noi, questa settimana, al giornale di Cefalù, proponiamo un'anticipazione delle interviste, che manderemo in onda integralmente nel prossimo numero del giornale di Cefalù. Ecco quindi il servizio su A Cirimonia al giornale di Cefalù. Buon pomeriggio, Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo. Lo spettacolo del quale vorremmo parlare adesso al giornale di Cefalù è A Cirimonia, il secondo della rassegna di teatro Cosa porta il vento. La scorsa settimana abbiamo avuto il piacere di ascoltare Tiziana Giordano, che ci ha un po' presentato i quattro spettacoli che compongono appunto questa piccola rassegna. Vorrei innanzitutto chiedere, insomma, decidete voi chi è più opportuno che risponda, perché questo spettacolo A Cirimonia ha un po' come definizione che esiste una sola verità ma nessun modo per esprimerla. In qualche modo richiamando da un lato Pirandello e dall'altro credo anche Beckett. Che dite? Direi a questo punto che la parola passa all'autore. Benissimo, benissimo. Sì, va bene, salvo. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sì, un po' è una tematica molto vicentesca. Non a caso questo qui è uno spettacolo che ormai ha un po' di anni, è uno dei miei primi testi. Quindi sì, la questione della verità è una questione annosa, diciamo, per la mia scrittura, che ancora comunque mi porto addosso. Ha detto bene, siamo un po' a metà strada tra i due grandi maestri, Pirandello e Beckett. In realtà lo spettacolo in qualche maniera ha un sapore più betettiano da un punto di vista formale e magari forse lievemente pirandelliano da un punto di vista concettuale. Io poi credo o all'unno spero che l'insegnamento di questi due grandi autori, maestri, possa in qualche maniera essere in qualche modo contestato poi dal fatto dello spettacolo. Questa non per presunzione, ovviamente, ma perché appunto lo spettacolo diventa più contemporaneo da un punto di vista forse soltanto per il tempo in cui viviamo rispetto appunto ai testi di questi autori. Per cui è sicuramente un punto di partenza interno recentesco, però in qualche maniera poi dal suo sviluppo tematico un po' si allontana. Ecco, due personaggi in scena, Umascolo e Afimina. Lui forse cieco, lei in abito da sposa per una festa di compleanno. Ecco, una scena a scarna, però probabilmente anche ricca di significato. Che dite? Pondocco vuoi durare? Sì, sì. Un pomeriggio a tutti intanto. Sì, grazie. La scena è una scena che può apparentemente sembrare scarna, ma carica di significato. troviamo appunto questa torta che è l'elemento più vicino. Per un compleanno? Di un compleanno? Non sappiamo. Ah, ecco, non si sa. Non sappiamo il perché di questa torta, di questa impossibilità di riuscire ad afferrare una verità, una verità che appunto la scena e i personaggi vivranno, ma appunto diventa così soggettiva. Nale di Cefalù, Videonotizie, Radiocammerata Web. In questi giorni ci sono tanti appuntamenti religiosi. Ecco, alcuni vogliamo metterli assolutamente in evidenza, scusandoci per altri dei quali non siamo venuti a conoscenza, ma che sicuramente coinvolgeranno un po' tutte le parrocchie della nostra città, della nostra diocesi. Ecco, cominciamo con la chiesa di Sant'Oliva. Dal 15 al 22 marzo alle 16.30, coroncina di Quaresima, per il settenario in onore di Maria Santissima, addolorata. Agli artigianelli, la festa del papà. Venerdì 15 marzo alle 18.00, in chiesa, un momento di preghiera in occasione della festa di San Giuseppe, con la benedizione dei papà e del pane. Ricordiamo che gli artigianelli sono guidati dalla congregazione dei padri Giuseppini del Muriato. Parrocchia Sant'Agata. Lunedì 18.00, alle 18.00 la Santa Messa, alle 19.00 un momento di fraternità. Per quanto riguarda poi la cattedrale, il 19 marzo segnaliamo alle 17.30 la processione, e alle 19.00 la Santa Messa. Andiamo alla Rettoria di San Giuseppe in via Umberto I, lunedì 18.00 alle 17.30 in Rosario e alle 18.00 la Santa Messa. Il 19.00 la Messa. e la benedizione e distribuzione del pane benedetto. Presso la chiesa di Santo Stefano, insomma quella del purgatorio per intenderci, è stato consacrato l'altare. Noi vi proponiamo in sintesi gli interventi del vescovo Monsignor Giuseppe Marciante e del parroco Don Francesco Lobbianco. Il vescovo, e lo sentirete, ha anche annunciato l'imminenza dell'inizio dei lavori nella chiesa della Badiona. Il progetto per l'adeguamento liturgico è stato realizzato dall'architetto Salvatore Curcio su progetto iconologico di Don Domenico Messina, responsabile del servizio di pastorale della liturgia. Come sentirete, la sottolineatura anche dell'intervento di Sebastiano Catania. Ma ecco il servizio. Il giornale di Cefalù, videonotizie, radiocammarata web. In questa quarta domenica di Venezia, in cui la liturgia, richiamandoci la gioia dell'essere infinitamente amati da Dio, in un certo qual modo ci fa già pregustare la gioia della risurrezione di Cristo, siamo qui, nella bella chiesa di Santo Stefano, a conclusione completa della Salvatore Curcio. Grazie. 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 Grazie a tutti. l'ufficio tecnico, l'edilizia di punto, della nostra curia diocesana, la sovrintendenza dei beni culturali ambientali di Palermo e la consulta dei beni culturali. Ringrazio certamente in modo particolare Don Domenico Messina, che è stato fatto, e Don Francesco L'Opera, col parroco della Paternale. Ma io vorrei ringraziare tutti voi. Perché? Perché grazie a una firma, la vostra firma, per l'Otto per Mille, è possibile realizzare queste cose. Quindi ringrazio la competenza episcopale italiana, che ha destinato alla nostra chiesa anche i fondi per poter restaurare questa chiesa. E ne valeva la pena. Per cui ricordatevi, quando si tratta di consegnare i vostri documenti a un fisco, ricordatevi della firma dell'Otto per Mille. Perché se non c'è la firma dell'Otto per Mille, queste cose, certamente, è molto difficile fare. Segnate? Facciamo continuo i colletti tra il popolo di Paternale. Quindi questo sistema mi sembra che sia ottimo per questo prodotto di Paternale. Grazie. 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 Salga, eh, Signore, l'incenso della nostra richieda, come il profumo rienti in questo Tempio, così la tua chiesa spanda nel mondo la sua ave e la granza di Cristo. Nell'anno 2024, dopo la nascita secondo la carne del nostro Salvatore Gesù Cristo, essendo Papa della Chiesa di Roma, il Santo Padre Francesco, Vescovo della Chiesa delle Grine in Cettalù, Giuseppe Marciante, Palloco della comunità parrocchiale della Cattedrale, il Presbitero Francesco Lodianco. Nella Chiesa di Santo Stefano, il giorno 9 marzo, quarta domenica di quaresima, il Vescovo di Cettalù, Giuseppe Marciante, ha dedicato al Dio Altissimo il nuovo altare. Sono testimoni alla celebrazione, il Presbitero Parroco Francesco Lodianco, il Signor Sebastiano Catania, suonso un'alba all'incara e fedeli l'amici e l'amiche della comunità parrocchiale. Cefalù, 9 marzo 2024. L'ultima della firma, tra i ringraziamenti, lo dimenticato, perché purtroppo si dimentica sempre qualcosa, la ditta che ha fatto i lavori, è la ditta Edima di Macaiole. Non so se è presente qui o in mezzo al Dio Montenegro, allora lo facciamo sapere e abbiamo ringraziato anche la ditta. Mentre in eccellenza, scusi, sono presenti uno dei due fratelli incognito che materialmente hanno realizzato la parte marmorea dell'Altà e l'hanno montata. Due cose, signor Sebastiano. E questa, sì, è questa. Quindi, andiamo a portare prossimamente i liti erano i lavori anche alla Padione, un'altra bellissima chiesa della nostra città, e sto cercando di recuperare, ecco, anche quella. Nessuna chiesa deve essere abbandonata, ecco, almeno, fino a quando ci sarò io, sa, fa così. Speriamo, tutte le chiese vogliamo riprendere, riportarle al loro splendore, perché sono un frutto, certamente, della devozione della gente. E va rispettata la devozione delle persone, della gente. E quindi, frutto anche, perché non i sacrifici del nostro popolo. E allora, mi sembra importante, decoro a tutte le nostre chiese. Fermando in triplice copia, perché una di queste copia sarà messa nel cofanetto che contiene le reliquie. Sono state messe in questo cofanetto delle reliquie che erano qui, panrocchia, di santi martiri, San Biagio, Santi Cosma e Damiano, San Vitale, San Pantaleone e San Tagnese, che avete sentito, abbiamo invogato nelle vitanie dei santi. Le altre due copie, una è per l'archivio panrocchiale e una per l'archivio in cui. Fin qui il servizio sulla consacrazione del nuovo altare nella chiesa di Santo Stefano. Il sindaco della nostra città, Tuminello, ha reso omaggio nel 167esimo anniversario al patriota e martire del risorgimento Salvatore Spinuzza, che è stato fucillato il 14 marzo 1857 in quella che è oggi Piazza Garibaldi, la piazza nella quale si trova il monumento in sua memoria. Ricordiamo che proprio la scorsa settimana un intervento della Presidente di Auser Giuseppina Anzaldi in ricordo del patriota e martire Salvatore Spinuzza è stato proposto nel giornale di Cefalù. Per chi volesse ascoltarlo trova tutto nel sito Camarata web. Consiglio Comunale è stato appena convocato per il 20 marzo alle 20 dal Presidente Francesco Calabrese in sessione ordinaria. Nell'ordine del giorno ci sono ben 11 punti da discutere in Consiglio Comunale. Vogliamo anche rivolgere le nostre condoglianze e le condoglianze del giornale di Cefalù alla famiglia di Angelo Sciortino che è improvvisamente morto nei giorni scorsi. Facciamo riferimento a quanto ha pubblicato su questo o quale Cefalù con una fotografia che riproduciamo di Angelo Sciortino. Abbiamo appreso che Angelo Sciortino non è più tra noi. Possa tu riposare in pace, caro Angelo, le più sentite condoglianze alla famiglia da quale Cefalù. Ecco, di cosa ci siamo occupati oggi al giornale di Cefalù? Tanto di acqua e bollette pazze di Amap. Vi abbiamo proposto alcuni degli interventi che si sono registrati in una lunga seduta oltre quattro ore del Consiglio Comunale della nostra città. Vi abbiamo fatto ascoltare naturalmente in sintesi gli interventi del Sindaco Tuminello, del Vice Sindaco Lapunzina e di due consiglieri della minoranza, Carmelo Greco e Antoniella Marinaro. Poi ci siamo occupati del giornale online Cefalù, che nasce proprio in questi giorni nella nostra città. Abbiamo intervistato l'editore Giuseppe Spinosa. Spazio poi all'azione cattolica perché si è svolto il primo incontro interparrocchiale degli adulti nel ricordo di Valeria Cortina. E abbiamo proposto la voce di Marianna D'Amico. Ed ancora il secondo appuntamento della rassegna teatrale che si svolge presso il Teatro Cicero con a Cirimonia. E abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo. Ed infine nella chiesa di Santo Stefano la consacrazione del nuovo altare con gli interventi del Vescovo Monsignor Martante e del Parroco Don Francesco Lobbianco. Ecco, fin qui il giornale di Cefalù di questa settimana. Vorrei ricordare che il giornale di Cefalù lo si può seguire esclusivamente in audio e video in internet. Profilo Facebook Adriano Cammarata e canale YouTube Carlo Antonio Biondo. I link sono su tutti i social e l'archivio del giornale su Cammarata Web. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione e pubblicazione del giornale di Cefalù. A cominciare da Adriano e Federico Cammarata, Giuliano Montagna, Rosalba Petarra, Guglielmo Biondo, Cristiana Biondo e Cosmo Scattaglia. Allora auguro a tutti una buona settimana e questa è la sigla del giornale di Cefalù. Il giornale di Cefalù Videonotizie Radiocammarata Web Carlo Antonio Biondo